Dare il giusto rilievo alle attività culturali messe in campo ininterrottamente negli anni è questo uno dei motivi che hanno spinto il consigliere comunale di Teggiano, delegato alla cultura con Antonio Delia, a proporre la candidatura di Teggiano a Capitale Italiana della Cultura 2021. Lo scorso 6 dicembre l'ufficio protocollo ha inoltrato la richiesta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Essere riconosciuti come Capitale Italiana della Cultura, oltre a consentire di ricevere risorse importanti per la promozione e valorizzazione dei beni culturali, offre anche l'opportunità di accedere ad una importante vetrina. L'iniziativa nata nel 2014 si pone come finalità quello di coinvolgere direttamente i comuni nelle attività di promozione generica del territorio italiano, incoraggiando, come si legge nel bando, l'autonoma capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della cultura, affinché venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione sociale, l'integrazione senza conflitti, la creatività, l'innovazione, la crescita, lo sviluppo economico e, infine, il benessere individuale e collettivo. Il comune di Teggiano, con l'invio della manifestazione di interesse, è dimostrato di accettare la sfida. Nella nota il sindaco Michele Di Candi ha individuato come riferimento del progetto il consigliere con Antonio Delia. La candidatura della città d'arte di Teggiano, spiega il consigliere Delia, nasce dalla volontà di dare il giusto rilievo alle capacità acquisite in tema di iniziative culturali, ruolo che Teggiano recita ininterrottamente da protagonista da oltre 20 anni, sia in Campania che sull'intero territorio nazionale. Teggiano, infatti, si ricorda per iniziative come la Biennale d'Arte Sacra, l'estate a Teggiano, le mostre di Guttuso e di Leopardi, il Festival Jazz, il Flute Festival e naturalmente la manifestazione medievale di Alla Tavola della Principessa Costanza. Inoltre, in continua, è nota per gli impianti culturali come Musei di Ocesani, il Museo delle Erbe Vididarium, il Museo della Civiltà Contadina, il Museo di San Cono, il Museo della Musica in Allestimento. A ciò si aggiungono manifestazioni come Bacas, nonché le installazioni del Museo Madre di Napoli, ora presenti nel complesso monumentale della Santissima Pietà e nel Castello Macchiaroli. L'intento, sottolinea in conclusione con Antonio Delia, è quello di creare cultura nuova e renderla fruibile insieme alla valorizzazione di quella presente, senza campanilismi, ma in un'ottica di competizione che può avere un unico e solo senso, ossia la tutela e la promozione to-cour della cultura in sé.